Vorrei una pizza a quattro stagioni con le patatine e la coca. I tempi di consegna sono circa 30 minuti, va bene? Ok, allora un menù kebab con... Menù kebab? Ma che... Io ho chiesto una pizza a quattro stagioni! Samir, porca bottene, non sei capace neanche di prendere un'ordinazione. Ci scusi, signore. Vai subito a fare un panino kebab completo con scivola... Ancora con questo panino? Ho detto che voglio la pizza! La pizza a quattro stagioni, patatine e coca! Lo capite l'italiano? Ci scusi, signore. Ancora errore nostro è che il contesto in cui ci chiede la pizza per noi non è... Non è il giusto contesto che chiede la... Ah, aspetti. Io ho davanti il vostro menù e dice menù kebab, menù piadina kebab, falafel di norajiad e subito dopo pizza a quattro stagioni. Lei quindi mi sta dicendo che questo menù scritto nero su bianco non rappresenta la verità? Ma scusa, signore. Sono Abdul Ghaffar. Relativo al suo ordine di falafel... Ma quale falafel? Ho ordinato una stracazzo di pizza. Posso o non posso mangiare una cazzo di pizza come la voglio io? Abdul, lo sapevo che avrei dovuto scambiarti con due mogli e due cammelli, cazzo. Signore, ci scusi, offriamo noi. Ah, se offrite voi, allora ok, scusatevi.